Fassa Lamina System è la nuova gamma di membrane desolidarizzanti Fassa Bortolo per la protezione e durabilità delle superfici. Fassa Floor Lamina Tex, telo desolidarizzante antifrattura per ambienti interni ed esterni. Fassa Floor Lamina Tex è una membrana desolidarizzante composta da due diversi strati di tessuto non tessuto utilizzata per disaccoppiare e ridurre la tensione tra rivestimenti finiti come piastrelle in ceramica o pietra naturale ed il sottofondo. Fassa Floor Lamina Tex è ideale in interventi di ristrutturazione grazie al basso spessore e permette di evitare il rispetto dei giunti di frazionamento esistenti nel supporto anche in interventi in sovrapposizione. Fassa Floor Lamina Tex, un prodotto con tanti vantaggi. Facilità di installazione per un risparmio in termini di tempo di posa, velocità di realizzazione, spessore sottile e maneggevolezza, assorbimento dei movimenti orizzontali del supporto. Fassa Lamina System, nuove tecnologie per il mondo della posa.